Siamo qui al Tour de Gianni, qui la sfida sarà il dislivello più che la distanza, cosa alla quale io personalmente non sono tanto abituato. Siamo sempre connessi, per tutto seguite il sito Garmin e il sito mio su Stefano Gregoretti dove potete seguire la traccia del Tracker in Ridge, naturalmente anche il sito ufficiale della gara. va bene. Siamo insieme a un'altra parte, un'altra parte. Oggi alla Salina, Quanti ne hai te? 27 e mezzo. Torniamo un passo giusto, perché questa è lunga, l'ho già fatta, è tutta così un po' ignorante, è inutile andare... Poi se ne abbiamo, ti ingeriamo. Se non abbiamo, facciamo quello che abbiamo. Grazie.